A tre anni dalla denuncia arriva la condanna a due anni di reclusione per il professore accusato di atti sessuali nei confronti di una sua studentessa. I fatti risalgono al 2015 e i protagonisti hanno a che fare con una scuola superiore di Vallo della Lucania. Lui all'epoca aveva circa 60 anni, mentre la ragazza di un paese costiero del Cilento non raggiungeva la maggior età. Quando iniziò a circolare la notizia della storia d'amore tra i due, la mamma della studentessa presentò denuncia. La procura avvio le indagini e il professore finì sotto processo. Adesso arriva la sentenza di primo grado che condanna il prof. Quando iniziò a corteggiare la studentessa, quest'ultima ancora era minorenne, ma comunque si innamorò di lui, nonostante i 40 anni di differenza, e appena raggiunse la maggior età non esitò ad andare a viverci insieme. Il professore, infatuato di lei, lasciò la moglie. Intanto la ragazza continua i suoi studi e è iscritta all'università e porta avanti la relazione con il suo ex professore. Per la mamma di lei è un amore malato. La figlia sarebbe stata plagiata psicologicamente dall'anziano docente. La figlia sarebbe stata plagiata psicologicamente dall'anziano docente.